La Casa del Caffè diventa Info Alghiero, Carlo Secchi e Saldini Ribaltata avevano chiesto più volte che questo locale diventasse una struttura pubblica. Il bene che noi nutriamo per Alghiero e l'attenzione che abbiamo per la soluzione dei problemi di Alghiero oltre al buonsenso che c'è sempre contraddistinto, ci porto a pensare che questa una volta cessata la sua funzione poteva rimanere un punto di aggregazione e di riferimento per la comunità algherese e per tutti i suoi visitatori e credo che questa sia stata una scelta che l'amministrazione ha accolto, ha condiviso e oggi la realizza e noi siamo ben lieti, così come faremo per altre proposte, di aver facilitato la soluzione di un problema della nostra città.